Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Civilization 6 con Montezuma. Stiamo giocando a difficoltà a divinità, la più difficile e non solito questa sfida sta veramente rappresentando per me una milestone, una pietra miliare. Ma le cose saranno andando anche abbastanza bene. In questo momento siamo vittima di un rush religioso da parte dei cinesi, che non è male perché effettivamente avere una religione per me non è assolutamente un problema, anzi. Dobbiamo vedere se riusciamo a dare una mano magari a Teotihuacan con questo costruttore. Allora, questo episodio mi piacerebbe dedicarlo, se si può. Penso che si può. Penso che si possa. Dedicarlo al commercio, ok? Quindi dobbiamo cercare di preparare le nostre linee interne che diventeranno presto quattro. Quindi le fiere medievali, porco cane, ho sbagliato. Cambiamo immediatamente. Andiamo sulla religione. No, era un modo per cambiare perché qui ho ricercato due turni di troppo. Allora, probabilmente la teologia non mi serve a niente, però porta il diritto divino che dà la monarchia. Quindi facciamo una b-line. Storia scritta, servirebbero due distretti campus. Sì, è vero, mi servirebbe un distretto campus perché ne ho soltanto uno e scientificamente sono una merda. Però conto adesso di costruire almeno altri due, così mi metto l'anima in pace. Ma per il momento stiamo andando molto bene economicamente e abbiamo già un distretto produttivo. Ok, intanto abbiamo le mura antiche. Una volta buona che qui, esatto, costruiamo un porto a Tenochtitlan in modo da avere una rotta commerciale in più. L'housing del faro, eccetera, eccetera. Ok, ottimo. Produzione. Qui abbiamo completato una galea. Iniziamo a riparare il murino d'acqua e poi il granaio. E la galea fortunatamente mi va ad esplorare i mari. Qui abbiamo anche un'unità a cavallo che sta esplorando. Questa zona vorrei colonizzarla. Intanto vedo che c'è un gruppo di barbari che va fatto fuori. Un'idea potrebbe essere quella di attaccare e conquistare Mohenio Darro. Può essere una buona idea in realtà. Potrei... Non lo so. Avrei una mezza idea di comprare ancora i coloni. Fino adesso credo di non aver mai costruito un colono. Cheopatra! Cheopatra non è male ma c'è da stare attenti perché pugnala molto alle spalle. Ma ama le civiltà con un grande esercito e noi siamo al primo posto nella classifica dei dominatori. Quindi potrebbe avere delle buone relazioni con noi. Ok. Accetta lo scambio. Dove si trova la sua capitale? Chi lo sa. Nuova ricerca. Istruzione dai. Ottieni un grande scienziato è una parola. Isaac Newton sarebbe fantastico però facciamo schifo. Però la cosa positiva è che siamo gli unici che stanno lavorando sui grandi mercanti. E abbiamo iniziato a lavorare anche sui grandi ingegneri. Non male. Perfetto. Questo lo facciamo fuori con estrema facilità. E devo ammettere che quest'area non è per niente male a livello di produttività però non ha risorse di lusso. Quindi insomma. Insomma. Il Congo si sta espandendo fondando Kinshasa. Ok. Probabilmente la stanno fondando ad est. Abbiamo una caserma, una scuderia. La caserma ci da produzione di abitazioni, ci un cittadino in più e un generale per turno. Io credo che sia buona cosa avere una caserma a base perché utilizzeremo questa città prevalentemente per costruire unità militari. Intanto possiamo potenziare il nostro picchiere. La storia scritta non voglio l'eureca. Vado dritto. Purtroppo non ho il tempo per l'eureca. E qui vediamo che insomma il Congo è praticamente schiacciato perché qui è due città abbastanza piccole e qui è la nuova capitale. Dopodiché si arriva direttamente in Cina. Allora... Abbiamo la sala che andava a... Bazambata. Ok. Io direi in Bazacongo. Adesso. Perfetto. Forza che adesso abbiamo il mercato Yerevan e presto lo stando commerciale a Teotia Khan e quindi poi nuovo mercato anche a Teotia Khan e quindi poi iniziamo a costruire finalmente a Yerevan a GoGo commercianti. Yerevan che ha il focus sulla produzione è una città abbastanza scarsa dal punto di vista produttivo. Vediamo se riusciamo... No. Intanto a Tenocitan dovremmo avere un'abitazione in più grazie alle nuove fattorie. Perfetto! Quindi si ritorna un po' a crescere. E qui vediamo se si può fare qualcosa. Sì, comunque due città ci stanno. Una in quest'area e una in quest'altra area. Magari vicino al lago. Teotia Khan ha completato lo snodo. Vai di mercato. Mundino d'acqua ha completato. Ok, finalmente Masa Kongo ha terminato tutto il suo... Tutte le sue riparazioni. Si dedica alle rotte commerciali a sua volta. Abbiamo una carta a disposizione. Leviamo l'esercito professionista. Io direi di ripiazzare la coscrizione. E a questo punto toglierei la servitù della gleba. E molto rapidamente mi darei la colonizzazione. Ma semplicemente per ora... Per questi sette turni. Perché mi piacerebbe costruire un colon di Statenocitan e un colon di Sambaza. E poi così concludiamo con queste città. Ok. Andiamo a costruire fattoria Teotia Khan. Molto bene. Pedro di Brasile. Pedro del Brasile è un'altra nuova civiltà. Probabilmente sta sul secondo continente. Quello dove abbiamo anche gli egiziani. Uh, ma non esiste. Rifiuto lo scambio. Adesso potrei riflettere su... L'opportunità di scambiare risorse con alcuni dei miei vicini. Perché no? Pedro intanto inviamo la delegazione. E accettano. Vediamo di farlo uno scambio. Cacao in... Eh, non hanno un cavolo. Cosa mi daresti? Quattro per tu. Accettiamo. Tanto siamo a... Più 3 attrattiva nella capitale. Cleopatra. Final scambio. Come sempre cacao. Guerra congiunta contro Qin Shi Huang. Questa mi piace molto. Però non gliela voglio... Non gliela voglio dare. Magari se mi danno i tartufi. E... 2 per turno. Facciamo 1. 2. Tartufi 1 per turno ci sta. È un buono scambio. Arrivederci. E vediamo di fare un altro scambio. A questo punto vediamo il caffè. Però voglio... 11 per turno. Vediamo se ci sta. Sì. Perfetto. In questo caso abbiamo portato a casa un bel quantitativo d'oro. Una nuova amenity. Perfetto. Qui possiamo fare un upgrade a... Fanteria pesante. Peccato. Attenzione però perché vedete che il... Abbiamo scoperto l'Euramerica. Prima di tutto. Il nostro continente... Come si chiama? È l'Antartile. Mentre invece abbiamo scoperto l'Euramerica ma soprattutto abbiamo scoperto che il Brasile ha le caravelle e la Cina ha un colono che non si sa bene dove voglia andare. Ma se mi sbarca sul continente sapete che cosa succede a questo proprio colono, vero? Quindi infatti adesso io devo... Rapidissimo. Portare i miei cavalli, eccetera. Però ci terrà confidato il porto. Non facciamoci... Non facciamoci lo dire due volte. Colono. Abbiamo incontrato Kabul e Toronto. Wow! E praticamente abbiamo incontrato un piccolo continente di città-stato. Potremmo sfruttarlo a nostro vantaggio. Toronto che cosa vuole? Un luogo santo e Kabul una piazza del teatro. Come si suol dire, aspetta e spera. Ok, anche in questo caso, come dicevamo, un bel colono. Meraviglia proprio. Abbiamo cinque rotte a disposizione e, cioè, non ne stiamo usando una. Questo è un peccato. Potrei comprarle, però... E guardate, cioè... Questi odiano tutti i Qin Shi Huang. Rifintiamo lo scambio, perché tutti vogliono la guerra congiunta contro il cinese. Qin Shi Huang ha finito Petra. Il fatto è che se lo conquisto, ragazzi, mi dà veramente un sacco di belle cose. Però non è il momento. Zona industriale. Ecco, siamo una bottega e qui il balestriere si fortifica, il cavaliere si riposa. E noi continuiamo l'esplorazione. È il primo dopo Cristo. I brasiliani hanno le caramelle. Va bene. Grazie, difficoltà 8. Ehi! Torres del Paine! Abbiamo incontrato una meraviglia. Ragazzi, devo conquistare questa città e stato. Fatemi vedere come sono messe difese, perché se sono così... Io non so neanche perché non l'ho fatto prima. Ma lo faccio adesso. Tanto il Congo è... Guardate, è troppo pacifico e l'ho smontato troppo una decina di turni fa. Poi gli ho svenato le casse, quindi non ha uomini. Anche se mi attaccassi a sorpresa, saprei... No, 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 no. Le mie truppe stanno passando di lì per caso. È una promessa. Ok, possiamo costruire il faro adesso e andiamo immediatamente a costruire... A fondare la nostra nuova città. Mochenodaro mi sembra veramente... In difesa. Ergo... Potrebbe diventare mia. Guardate che stavesti. Ok. Tanto l'Islam sta arrivando da parte degli egiziani. Ok. Mentre i cinesi cercano con altre religioni. Che figata. Allora, a base a Congo ha completato un commerciante. Ne possiamo costruire un altro. E questo io direi di lasciarlo proprio a base a Congo perché a base a Congo sarà una città che avrà un'importanza strategica per la produzione e quindi per guadagnare i miei tre punti di produzione la sposto direttamente a Tenochtitlan. Perfetto. Cosa abbiamo incontrato? Ha un villaggio tribale che ci serve a poco. Presto Ierevan farà un'altra rotta. Ma stai zitta. Il mio esercito è debole? Ai ai ai. Abbiamo perso il primo posto? Siamo in testa. Punteggio 180. Ah beh, gli egiziani 230. Cioè siamo in testa per le conquiste ma non per l'esercito. Quindi è il momento di potenziarlo un po'. Però adesso Ierevan ha completato un mercante. Direi che è assolutamente necessario avere le mura antiche e gli emissari. D'ora in poi li mandiamo a Toronto. Oppure... Beh... Anche Kabul non è male. Che bonus mi dà Kabul? Le unità rischiamano l'esperienza doppia dalle battaglie. Wow! Toronto mi dà gli effetti regionali delle tue zone industriali e quartiere di divertimenti hanno tra raggi in più. Toronto tutta la vita. Molto importante, ragazzi. Ok, stesso discorso Ierevan. Nuova rotta commerciale. La mandiamo a Tenochtitlan o a Mbazacongo. Andiamo a Mbazacongo. Perché comunque la strada da Ierevan a Tenochtitlan c'è, a da Ierevan a Mbazacongo non c'è. Ok. Intanto qui prepariamoci perché il prossimo turno facciamo fuori già questo valestiere. e se riesco. Ok. Il tuo amico mio prova a vedere se riesce ad estruare questo continentino. Davanti. Occhio che i cinesi stanno per sbarcare, porco cane. Fatemi vedere, qui possono sbarcare... Beh, li blocchiamo. Cerchiamo di bloccarli il grano in modo che se sbarcano sbarcano qui sopra. E col cavallo cerco di bloccarli. Vediamo dove vanno. Perché col cavallo io se attacco e dichiaro guerra... Ehm... I cinesi ci denunciano. Ci denunciano. Crimine contro l'umanità. Se soltanto avessi qualche uomo in più questo colono sarebbe mio. Ma non sono non sono sbarcati quindi adesso mi sento sempre più vicino alla mia zona preferita. Ok. Tipografia molto importante per avere la polvere da sparo. e questi sono in posizione. Dichiariamo guerra moreno d'aro e iniziamo a bombardare con il nostro accampamento e poi con il balestiere e il loro balestiere è schiattato. E poi inizia la fase divertente in cui si bombarda la città il più possibile. Chiaramente non ho portato la mia unità in posizione perché sono un babbeo ma a parte questo. Vediamo se mi attaccano lo scout. La città ha un bombardamento che potenzialmente fa male però non ha unità difensive. Ah adesso ha un carro vaffambagno. Tenoccia ha fatto il faro direi di iniziare con l'università adesso le abitazioni di Tenocitlan sono sono 11 io direi che intanto che facciamo l'università scusate do il focus alla crescita in modo che la città cresca rapidamente dopo di che ritornerò a dare un focus alla produzione e ok Teotio Cana ha costruito il mercato grazie costruisce le mura antiche e poi un altro un'altra rotta qui abbiamo il colono il porto sarebbe fantastico su questo lago in realtà no a questo punto Mbaza Mbaza Congo ha un accampamento io direi che un campus potrebbe essere una buona idea un campus davanti a casa per avere un po' di scienza e qui diciamo che possiamo piazzare la città ok i Chinese sono sbarcati i casi sono due o provo a bloccarli qui perché se fondano la città sulla collina non fanno un buon affare perché qui abbiamo i cavalli però per avvicinarci i cavalli dobbiamo perdere il fiume se io fondo la città qui dove sono come potete vedere abbiamo ottimo potenziale per la per la produzione veramente ottimo ma almeno per il cibo dovremmo riempire di fattorie questa zona e faremo molte rotte interne però avremmo i pascoli 1, 2, 3 ma non i pesce qui rischiamo di perdere però la città se i cinesi decidono di fondarla su questa collina ho la fondo da questa parte e mi perdo un pezzetto di mare però d'altra parte il mare non è molto produttivo ragazzi io frego i cinesi cialco fondata prima cosa che facciamo ovviamente è un monumento e poi le prossime due rotte le facciamo partire da cialco in modo che si potenzi rapida rapida ok si può già attaccare sconfitta minore però gli buttiamo giù le difese eh già poi possiamo curarci salinare cinesi è stato bello vedervi tentare di prendere un territorio che effettivamente adesso appartiene a noi sei peggio di brutto e cassio messi insieme quando gli egiziani iniziano con brutto e cassio mi viene veramente mi sale mi sale la guerra civile e si rimbarcano figlia del sacco ok la cittastato ci ha fatto fuori l'esploratore l'avevamo messo in conto però eh allora voi vi addormentate fate sogni d'oro tempo è scaduto vediamo di cambiare la produzione ok adesso abbiamo un commerciante direi una bella caserma continuiamo invitare toronto a diventare nostra alleata mi piacerebbe terminare l'episodio con la conquista di moeno daroi se non mi dispiace trasferiamo a cialco la nostra quarta rotta e beh qui ragazzi stiamo facendo delle scoperte notevolissime stiamo doppiando la come si chiama Euroamerica va bene Pedro do Brasil mi sta spiegando quante cose belle potrebbe fare sono una merda scientifica ragazzi dopo queste mura ieri abbiamo fatto un quartiere scientifico dovevamo iniziare a fare il catch up come potete notare moeno daro adesso non ride più tanto non so se notate ma allora fermi tutti sì mi piace Tlacopan fondata e la seconda linea magari la mettiamo a Tlacopan così entrambe crescono parimenti anche qui monumento ok quindi linea che va a Tenochtitlan quindi vale praticamente come un grande come una grande casella con tre di riproduzione e due di cibo gratuitamente quindi questa ci permette di velocizzare abbiamo le fiere medievali quindi adesso scusate ma torniamo a cambiare le carte la colonizzazione non ci serve più io direi che i caravanserragli sono perfetti perché danno più due oro da tutte le nostre rotte anche quelle interne e per il resto va tutto bene niente niente io qui continuo ad esplorare vediamo se nei grandi ghiacci riesco a tornare indietro quindi praticamente adesso non so quante città siamo arrivati però probabilmente abbiamo raggiunto il nostro il tuo popolo si insedia troppo vicino ignora questa richiesta sono affanculo probabilmente siamo arrivati a livello ottimale visto il continente probabilmente ci sta un'altra città qui ma non abbiamo l'acqua dolce dovremmo fondarla dall'altra parte del lago vediamo vediamo questo è un episodio che do un po' di più rispetto al solito ma ci sta veramente veramente non riusciamo a prendere la città perché c'entra un cavaliere mura completate campus senza perdere tempo qui c'è il bonus di adiacenza altri due distretti quindi questo campus diventerà sicuramente ricco e poi ne facciamo un altro teo tioccano a questo punto bene fantastico è stata introdotta quella pece estiva questa caratteristica che a sud i ghiacciai a volte possono essere navigabili in modo da essere in grado di fare questi giri attorno ai continenti ghiacciati non so se ha molto senso perché a volte direi sì cioè sì è vero però la terra è fatta così si può circondavigare perché le calotte sono a nord e i continenti in mezzo ci sta ci sta è un'idea interessante qui il congo si vuol fare si vuol fare del male però ci proviamo yep ok tieni la città certo ragazzi abbiamo appena catturato una città con 7 abitanti che non è affatto male ripariamo le mura e poi diamo sempre il focus alla produzione e si vede ok allora fatemi fare il conto 1,2,3,4,5,6,7,8,9 città probabilmente non è il top per per questo tipo di mappa magari ce ne starà una decima però per adesso per essere il turno 125 mi sento di poter dire che stiamo andando bene scientificamente non facciamo neanche poi così schifo perché il congo è dietro di noi noi siamo 23,44 loro 23 e 24 però la cina 31 teca 61 per turno per dominio però siamo veramente una forza militare notevole soprattutto secondo me per l'apparato produttivo perché potenzialmente possiamo costruire veramente un esercito pazzesco e magari nel prossimo episodio cerco di arrivare a ottenere le armi da fuoco e la fusione del metallo dopodiché cerchiamo di far fuori definitivamente il congo e vediamo se c'è lo spazio di invadere la Cina io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me vi chiedo di lasciare un like se l'episodio vi è piaciuto e vi do appuntamento alla prossima